Avete individuato sui siti potenzialmente idoni per la costruzione di questi moduli provvisori che possono essere anche dislocati su più siti? Sì, sono tutti e cinque siti che abbiamo ritenuto idoni per varie motivazioni. Sicuramente e molto probabilmente non sarà un solo sito ad ospitare in USPS, ma più di uno. Questo per equilibrare l'impatto socio-economico, ma sia per renderli più funzionali. C'è il CED che potrebbe scompaginare tutto perché potrebbe ospitare tutti gli siti. Il CED è una soluzione che va valutata attentamente, sia prima di tutto bisogna comprendere se ha le condizioni per ospitare una scuola dal punto di vista strutturale, quindi se è sicuro. Qualora lo fosse, il CED sarebbe un nuovo polo della città, scolastico ma anche economico. Quindi bisogna valutare anche tutte le condizioni che stanno intorno al CED, quindi viabilità, servizi, infrastrutture, trasporti. Sono condizioni che andrebbero a escludere la realizzazione dei MUSPS, quindi faremmo l'adeguamento solo del CED, ma che di fatto ci pone anche altri interrogativi. Ci aggiorna sulla situazione dell'ex consorzio? L'ex consorzio, ieri abbiamo avuto delle interlocuzioni anche vivaci con i vigili del fuoco. Questa mattina alle 8 abbiamo fatto un sopralluogo, i quali, informalmente anche con dei nostri tecnici, ci hanno garantito la possibilità di poterlo aprire per finalità scolastiche, per un numero non superiore a 300 alunni, ma di fatto pensiamo di metterci, di realizzare 20-21 classi, ed è una soluzione comunque che a lungo termine può aiutare la città perché una volta realizzata la scuola potremmo farci ritornare la primaria e la secondaria di primo grado, cioè le elementari e le medie. Quindi riportarle da Deia Cobis al centro, perché sul centro comunque la scuola primaria ha le sue condizioni di utilità per tutti i cittadini che abitano nei dintorni. Non solo lavori strutturali, ma anche di viabilità state facendo? Sì, stiamo pensando non solo a lavori strutturali, ma i progetti che presenteremo comprenderanno anche lavori di viabilità e di accesso, cioè sia per le auto, faccio un esempio, nel caso della sede del posizionamento di Muz sotto al ponte San Ferdinando, pensiamo di realizzare un anello che abbia un ingresso dall'attuale palestra per uscire praticamente alla rotonda di Teramo Est. In più, per chi dovesse poter accedere alle pezze di San Francesco, pensiamo a una viabilità pedonale, quindi con un ponte pedonale lungo il fiume. Presidente, per quanto riguarda i convittori, andranno a Hotel Gran Sasso? Allora, al momento sembra quasi di sì, quindi in hotel per i prossimi una, due, tre settimane, finché i mobili di via Balzarini non saranno formalmente acquisiti e quindi pronti ed idonei. Però la mensa universitaria non funziona, la Preside l'ho detto. Purtroppo la mensa non può essere, da quello che ho compreso, essere aperta dopo le 14 e non funzionerebbe la sera perché non aperta, quindi di fatto pone un grande interrogativo per i convittori che hanno bisogno di cinque pasti giornaliere, colazione, mezza colazione, pranzo, merenda pomeridiana e cena. Il prefetto è tornato a parlare di sicurezza delle strutture, proprio perché siamo trovati un argomento rispetto al delfico. Lei si sente di rassicurare genitori, famiglie, docenti, studenti sulle nuove destinazioni? Sicuramente le nuove destinazioni, qualora saranno in USP, sono adeguate sismicamente perché lo sono sia per certificazione ma anche per conformazione. Hanno un comfort per i ragazzi idoneo perché la parte del comfort è utile soprattutto per la didattica, quindi su questo non abbiamo dubbi. Qualora dovessimo scegliere il CED faremo tutti gli accertamenti del caso. Pare ci sono già state fatte anche delle verifiche strutturali e fisiche, con dei prelievi ai solai nei pilastri. Questo ci rende sicuramente più certi di quello che possiamo certificare e che i tecnici certificheranno. Però metteremo, ragazzi, strutture idonee. Confermato domani il rientro a scuola? Sì, confermato domani.